E' inutile suonare qui, non vi aprirà nessuno Il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi Un calcio alla tv, solo io, solo tu E' inutile chiamare, non risponderà nessuno Il telefono è volato fuori giù dal quarto piano Era importante sai, pensare un poco a noi Non stiamo insieme mai, ora si, ora si Soli, la bella è come un vestito Soli, mangiando un panino in due, io e te Soli, le bricciole nel letto Soli, ma stretti un po' di più Solo io, solo tu Il mondo dietro ai vetri sembra un film senza sonoro E il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero Sei bella quando vuoi Bambina, donna e poi Non mi deludi mai E' così che mi vai Soli, lasciando la luce accesa Soli, ma guarda nel cuore chi c'è Io e te Soli, col tempo che si è fermato Soli, soli, però finalmente noi Solo noi, solo noi E' inutile suonare qui, non mi avverrà nessuno Il mondo è più chiuso fuori con il suo casino Un appuccio è tuo Il frigo pieno è poi Un calcio la tv Solo io, solo tu Solo tu Il frigo pieno è Nogim istorijskim fasi Che ci davano le ubranze Ono che è il più valore dei nuovi prodotti Sono i faici Faici sono 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 faici E sono qui A mezza via Di quel che è La corsa mia E cerco un po' Di verità La verità Dovunque sia Dunque Credi Sono qui Con te Disorientati Io Ma come puoi capire Sono faici Sono faici Sono faici Attivi così Tutto gira troppo in fretta E ci si scorda Anche di vivere Anche di vivere Non è questo Che mi aspetto Io mi aspetto Momenti unici Perciò Io Perciò Io Perciò Vorrei Riprendere il cammino Insieme Io con te morrei Se puoi Se puoi Con te Con te Continuerai Se puoi Se puoi Sarai In te In me Immaginare Il nuovo che Verrà Guardare indietro Guardare avanti Guardare dentro A questi anni Di me Di me Di me Di me Di me Così Io Da qui Io Potrei Salire di un gravino Il canto Se mi aiuterai Se puoi Se puoi Se puoi Se puoi Sarai In te In me In me Immaginare In me Immaginare Il nuovo che Verrà Con te Con te Con te Con te Con te Con te Continuerai Continuerai Se puoi Se puoi Sarai Se puoi Con te In me Imaginare Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info quindi non si smerisce da dovremmo venire in Pondina ma quando si dolazzi da Veneci, ovim treboli sul trenco, vorremmo se da ostaviti ora in ulazzi, tu, la laguna, e da se prevede questa barca, ma naravno questa storia sul trenco. La chate mi cancare, Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero. Grazie, grazie. La tua barbie è da un po' che non l'hai, e il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, quante cose in un filo di fiato, e vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno in su, e tra poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. E tanto il tempo se ne va, e non ti senti più bambina, si cresce in fretta la tua età, non me ne sono conto prima. E tanto il tempo se ne va, tra i sogni e le preoccupazioni, le calze a rete ho preso già, il posto dei calzettoni. La tua barba è un po' che normale, ma una figlia è una cosa speciale, e il ragazzo magari c'è la... ...istvarao Dante Alighieri. Na ovom trgu se nalaze palate, koje su sveducile moć ovdette Trgovarske Republike Komune Verone, koja je existovala sve da 16. veka, i u tom periodu se grade reprezantivni objekti, i jedan od njih jeste i domus, odnosno palatak Lebišica ili gradska kuća, nekadašnji parlament nezavisne komune Verone, sa tornjom Lamberti visokim 83 metra. Dakle, tu se nalazio parlament nezavisne komune Verona. Trg sa severne strane zatvara jedna barokna palata, koja je izgrađena u 18. veku, i zove se palata Mafei. Ima na svojoj fasadi, na krovu, šest skulptura antičkih bogova, koji predstavljaju zaštitnike trgovine. U centru ovog pijačnog dela Trga Erbe nalazi se prelepa fontana Madonna di Verona, koja u svojim rukama drži jednom spis, kojem piše na latinskom jeziku, prevedeno ono isto pravilo koje je ubriježeno u ustavu nezavisne Verone, u 1. marsu toga ustava, a tu piše, ovaj grad je istinski pravdoljubiv i ponocan na to. Na ovom tragu se navazi jedan interesant mali stup na popertove pijače, kada budemo trenuli pa Guči, Julino i Guči, moći će polio da si vidi. Ove tre praštije i sam Dante Alighieri je bio uvučen u politiku u Morali, odnosno u gradu Sveća, današnjoj Firenze, gde je bio jedan od senatora koji je vodio pregovore sa papom Bonifacije unutar Firenze. Međutim, njegova giberniska frakcija je izgubila se je Dante Alighieri naredkom pape i gradskih otaca Firenze morao da bude prognan, doživotno prognan iz Firenze. Tada Dante dolazi ovaj u Veronu, koje pove poti skupko paizare ko se zanite da vidite nekje, uče smuva kjuti in skupiva. Međutimo u Veronu kakakogje do ceku Če kujutiko mavi. Perchè quando amo, lei ama davvero. Chiara che si nota tra la folla, Chiara che ha imparato a stare galla, Chiara dal sorriso dolce provocante. E' chiaro che non puō non essere importante, Chiara spaesata in mezzo alla gente, E' un buono un difetto. Essere trasparente. Esere trasparente. Frizzante mi bacio, Con riservatezza, Trascina su senso, Inadeguatezza. Chiara se simpenja. Chiara se simpenja, Simpenja finul in fondo... Chiara ga da… Parpe strukture nazivaju Coloseuses. Sama rei coloseus, è colosso, è molto grande, e noi lo utilizziamo quando vogliamo di usare qualcosa di grande e grandioso colosso. E uno è stato in Rima, e è il più grande. Ci sono circa 5.000 rimske povera, è stato creato in tutti i rimske provinciari. E questo è uno di obiettivi che sono rinani chiali di glorificare la sua voce in popolini provinciari. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Siamo arrivati alla fine di una delle più vadocio di cerchi, vadocio di metà in Italia, Basilica Sveto Ante o San Antonio in italiano, Antunni o Ante in srbatskono, come si chiamano e trevano. Il svetac è pochtovano e visoko pochtovano da strane srpske pravostrano crkve, perché il svetac è il svetac che... ...e l'Udor per questo è stata la crkva di sveti apostoli da Carigradi. Sama basilica è ancora tre volte più svegliata da ottenere la dimensione di oggi. 115 metri di vicino, per quanto è doti l'ultima, e 147 metri di distanza. La dimensione di portale della crkve è di 48 metri della dimensione. È scelata da strvene ottiche, con l'intruzione di mermero. Ci mette anche il cuore, mi hai fatto innamorare, mi hai fatto innamorare, Facendomi sognare un po' di più, ogni ora di più, ogni anno di più, Con il corpo e con la mente, contemporaneamente, mi hai fatto innamorare, Mi hai fatto innamorare, mi hai fatto innamorare, amore mio, Per volare con te, solamente con te, abbracciati dolcemente, da sole o tra la gente, Tu, soltanto tu, con tutte le sorprese che mi fai, quel po' di timide...